Sergio Calai, la difesa ha retto ancora una volta, portando a casa un punto importante, ci dici la tua dopo questo bel match? Sì, è stata una partita dura, loro erano una buonissima squadra, avevano dei buonissimi giocatori, però noi siamo stati bravi a contenerli bene, abbiamo difeso bene i spazi, con gore e poli dietro, loro avevano tre attaccanti, secondo me, molto validi, e secondo me siamo stati molto bravi a concedere poco. Anche con Bavaro è stato molto bravo. Grande prestazione di Barosi e ancora una volta buona la difesa a tre. Cosa cambia quando giocate a tre o quando giocate a quattro dietro? Quando giociamo a quattro sicuramente abbiamo una predisposizione più offensiva e sicuramente creiamo più occasioni. Poi quando invece giociamo a cinque dietro sicuramente siamo molto più coperti e concediamo molto meno all'avversario. Come si recupera tra tre giorni per una partita importante con la Juve con gli squalificati e gli infortunati che abbiamo noi? Io penso che noi abbiamo una cosa molto ampia e composta da tutti i giocatori validissimi, quindi non penso ci saranno problemi sulle assenze, perché comunque anche chi è entrato dalla panchina ha sempre dato il suo contributo e poi siamo un buon gruppo, quindi non ci saranno problemi secondo me.